. Da questo momento in poi cercerò di dare più peso a quello che faccio, di usare la testa, questa la promessa di Christian alle sue corteggiatrici che suona però come una promessa da Boy Scout dato il caos generato dall'inizio del suo trono Il romano si trova ancora una volta a rincorrere una delle sue corteggiatrici che, a margine di puntata, avevano annunciato l'abbandono Questa volta tocca Valentina Il tronista si fa trovare sotto casa della ragazza e le chiede di poter parlare in seguito alla sua decisione di abbandonare il programma I due hanno un confronto chiarificatore e la giovane decide di tornare su suoi passi L'atteggiamento del tronista mette in subbuglio le altre corteggiatrici, in particolare Virginia che lo accusa di comportarsi allo stesso modo con tutte quando Maria le chiede con chi voglia ballare, il tronista invita Virginia ma lei si rifiuta L'atteggiamento del tronista L'atteggiamento del tronista mette in subbuglio le altre corteggiatrici, in particolare Virginia che lo accusa di comportarsi allo stesso modo con tutte quando Maria le chiede con chi voglia ballare, il tronista invita Virginia ma lei si rifiuta L'atteggiamento del tronista mette in subbuglio le altro cafe L'atteggiamento del tronista mette in sub motorsport